Benvenuti nel mondo Bell & Ross. Bell & Ross è un brand di orologi di lusso nato dalla collaborazione di due amici, Belamich e Rosillo, che si ispirarono alle cabine di pilotaggio degli aerei per creare il design degli orologi Bell & Ross. Il primo modello fu costruito in Germania e in seguito la produzione si spostò in Svizzera. Il design degli orologi Bell & Ross si ispira a quattro principi di progettazione, impermeabilità e resistenza all'acqua anche ad elevate profondità, movimenti svizzeri di alta precisione, chiari e leggibili indicatori visivi in tutte le condizioni e funzioni speciali per usi militari, aeronautici e subacquei. Bell & Ross produce anche orologi in edizioni speciali limitate, che differiscono da quelle convenzionali nei materiali o nel design, ad esempio alcune versioni in oro giallo, rosa o in fibra di carbonio. Addirittura altre raffigurano all'interno del quadrante un teschio. Tra gli acquirenti degli orologi Bell & Ross ci sono varie forze armate francesi. In conclusione, se stai cercando un orologio di alta qualità, resistente e dall'aspetto elegante, gli orologi Bell & Ross sono sicuramente un'ottima scelta. Grazie alla loro vasta gamma di prodotti, potrai trovare il modello che meglio si adatta alle tue esigenze, che tu sia un appassionato di subacquea, di volo o semplicemente di orologeria.